le cimierde ma che mi scorda il sale fino e ora fai il pesce no ce l'ho il sale però è questo grossetto grosso perché è tutto bagnato una forbice ci vuole cin cin salute auguri alla facciata questi sono film pre-vite ciao questi non si devono fare per il naso e così ora si posso fare finta di cucinare? si c'è una scaletta ma così non va a beccare e prendi pure queste squisitezze lo sto facendo che bella che bella pantotta sta diventando rossa però rosso si certo mi sono bruciato mi sono bruciato no che ti hai dato il rosso mi sono bruciato vale che belle che belle che belle che belle che belle questa volta non mi fa fare a me il cuoco ma se n'è andato là si è messo rudo si è messo per i comparenenti cosa sei vestito? ma la sappiamo che la tua cosa ok chiudo si sto partendo io ho chiuso solo non è tutto a posto ah sta prendendo si ora si è ripreso ho chiuso adesso facciamo il gamberone da una parte gliel'abbiamo messo l'altra parte gliel'abbiamo messo non è che poi troppo sale ci fa male si che siamo vicino alle saline si è l'altro lato ora ok apposta stanno messando le mani nella buccia certo ma insomma ecco qua ok 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 che non è che fai il gambero rostico buono eh pesce spada no tonno 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 pesce tondo pesce tondo pesce tondo vediamo questi sono tondi con il becco in testa cadinale no non lo so no aspetta fa te fa te io ero ragazzino piccolino che gli andavo ci andavo la macchina a portargli il caffè quando preparava Calvino i vecchi operai ah si si Calvino preparavano le timbali ah si ma erano d'arte si anche loro ah lui faceva le tizze che facevano le spizze alla sera veramente veramente favolose favolose no no da Calvino ok ora si se dovevamo mangiare per esempio il pollo per esempio andavamo da Calvino se dovevamo mangiare la pasta a forno andavamo da Gianguzzi se volevamo mangiare le timbali andavamo da Calvino ah facevano si facevamo dipende quello che dovevamo mangiare perché Gianguzzi faceva la pasta a forno che era meravigliosa allora allora poi invece Calvino faceva le timballe che erano Gianguzzi non è un poco zonpo era 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 un muruto il muruto e vabbè perché l'ho conosciuto ma aveva l'amante pure l'ho conosciuto vero non ti dico cosa c'era e beh e tutte queste non è un piccione se gli dico una cosa ci diremmo no noi eravamo piccolini allora piccolini avevamo 13-14 anni ok chiude si spegne anche se dacci abbiamo l'abbiamo fatto la mentuccia ci voleva la mentuccia ce l'ha e voilà è buona ma se devono essere grasse le sarde per fare allo stile ah sì sì no è buono che buono questo cavolo tanto per finire vieni qua vieni qua vieni qua aaaah 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 a mucca leone così a mucca leone in essa c'è un po' di filo di ferro c'è un po' di filo